Vi state interessando alla fotografia notturna? Fantastico, questo potrebbe essere l'ultimo video che avrete mai bisogno di guardare su questo argomento. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale, io sono Cesare, mi occupo di fotografia come ormai sapete, oggi sono qui per parlarvi di fotografia notturna, andremo a fare un discorso a tutto tondo a differenza di un video pubblicato di recente in cui andavamo a vedere semplicemente le differenze tra la fotografia notturna con una fotocamera e la fotografia notturna con uno smartphone che nella fattispecie era l'iPhone 15 Pro. Oggi andrò a raccontarvi quali sono un po' delle accortezze che bisogna mettere in campo quando si realizza una fotografia notturna. Prima di andare a incominciare ricordo a tutti quelli che non fossero ancora iscritti e lo vedo dalle statistiche che sono un bel 60% di quelli che guardano i miei contenuti, iscrivetevi adesso al canale perché se il 60% di voi sta guardando i miei contenuti e non è iscritto vuol dire che questi temi gli interessano e poi si perde dei video e questo non lo voglio io e non lo volete neanche voi. Bene ma rimbocchiamoci le maniche e andiamo a incominciare. La prima cosa che vi voglio dire è quando si scatta fotografia notturna per quanto mi riguarda le modalità automatiche sono bandite. Voglio spiegarvi perché. Io ho molto contro le modalità automatiche, di fatto non le uso mai. Nel mio flusso di lavoro io scatto sempre in manuale. Le volte che scatto in automatico sono veramente una ogni due barra tre anni quindi veramente pochissimo. Voglio spiegarvi perché però perché c'è un'ottima motivazione. Nel momento in cui noi utilizziamo le modalità di esposizione automatiche o di priorità la nostra esposizione è condizionata dall'inquadratura che facciamo. Mi spiego meglio. Facciamo finta di avere un lampione qui nel centro della nostra inquadratura. La nostra esposizione automatica sarà di un certo tipo. Se noi cambiamo inquadratura e quindi il nostro lampione si trova da un'altra parte nel fotogramma la nostra esposizione sarà completamente diversa perché magari prima essendo il lampione al centro la nostra fotocamera gli dava una rilevanza di un certo tipo mettendolo a lato gli dà una rilevanza inferiore. Oppure supponiamo che ci sia una pozzanghera nella nostra fotografia quindi una pozzanghera in cui quel lampione si può riflettere. Ebbene se noi inquadriamo la pozzanghera e quindi la luce raddoppia l'esposizione può essere di un certo tipo mentre se noi cambiamo la composizione e escludiamo la pozzanghera e quindi escludiamo quella doppia luce la nostra esposizione cambia. Questo per quanto mi riguarda è intollerabile perché significa che non avremo costanza durante le foto che facciamo. Significa che avremo un'esposizione diversa ogni volta che muoviamo la fotocamera e questo per me è assolutamente intollerabile. Io preferisco a quel punto prendere pieno controllo delle impostazioni della mia macchina e far sì che queste non cambino per nessun motivo a meno che non lo decida io. Se io mi rendo conto che cambiando completamente la mia direzione in questo scattando ho bisogno di modificare l'esposizione allora lo faccio ma è una scelta consapevole non è delegata semplicemente agli automatismi della macchina. Va da sé che per fare con successo fotografia notturna utilizziamo un bel treppiede. Ne ho recensito qualcuno di recente anche sul canale vi lascio il link da qualche parte in card ne ho recensito uno molto bellino che sto usando di recente ma per lo shooting di Natale che insomma sono anche le foto che vi presento stasera non l'ho usato e sono qui a dirvelo proprio perché avrei dovuto usare il mio treppiede nuovo di small rig che era più bello e che mi avrebbe consentito di portare a casa un lavoro fatto meglio invece per pigrizia per dimenticanza sono partito in macchina per fare quello che dovevo fare so che ho sempre non uno ma due treppiedi in macchina io giro con la macchina con due treppiedi uno nel bagagliaio e uno buttato sul sedile e ormai è così e non c'è niente da fare quegli treppiedi sono lì e quindi io sapendolo per pigrizia ho detto vabbè c'è già un treppiede in macchina usiamo quello. Che cosa è successo? Un'accortezza di cui voglio rendervi partecipi è quella di stare molto ma molto attenti innanzitutto alla qualità costruttiva del treppiede che utilizziamo in secondo luogo anche all'impostazione del medesimo perché vi dico questo perché nel momento in cui io vado a fare fotografia notturna probabilmente starò usando una posa medio lunga perché comunque di notte è buio a me piace chiudere il diaframma oltretutto quindi scatto a f8 f11 magari anche f16 per avere le stelline dei lampioni dei punti luce quindi è scatto a isocento ovviamente quindi devo dilatare i tempi di posa magari mi viene fuori un 20 secondi di posa ora su 20 secondi di posa se noi non abbiamo serrato correttamente la nostra testa il nostro treppiede tutte le parti flottanti devono essere serrate correttamente perché su 20 secondi di posa io non me ne accorgo magari ma se c'è un micro movimento la foto è rovinata e se sto facendo più foto sono tutte rovinate perché comunque se la testa non è serrata bene quindi magari il peso dell'obiettivo mi porta la macchina muoversi in avanti ottengo delle foto con la scia che possono anche essere belle però non è quello che ero andato a fare quindi sono rovinate ovviamente vi racconto questa cosa perché mi è successo mi è successo durante l'ultimo shooting in cui sono andato a fare le mie solite foto di natale mi è successa proprio questa cosa quindi un paio di foto non avevo serrato correttamente la testa e sono venute rovinate quindi non ve le faccio neanche vedere però avevano questa scia che era assolutamente impresentabile quindi quelle due foto sono state scartate per fortuna uno se ne accorge e poi sulle successive non ripete lo stesso errore però è una cosa a cui stare attenti ora perché utilizziamo il treppiede utilizziamo il treppiede perché di notte c'è meno luce che di giorno come tutti sanno ovviamente ma questo che cosa comporta essendoci meno luce la nostra fotocamera ha bisogno di più tempo per esporre correttamente la scena o meglio noi possiamo gestire i parametri quindi ci sono tanti modi di illuminare la scena in macchina senza bisogno di intervenire con delle luci cosa che io non faccio perché quando fotografi una piazza un paesaggio una cosa una città di notte non è che puoi andare a illuminare i palazzi quindi la prendi così com'è e ti gestisci l'esposizione in macchina senza andare a svegliare le persone flashandogli le facciate delle case o cose del genere per gestire l'illuminazione in macchina ci sono diversi modi io potrei alzare gli iso ma non è la soluzione che mi piace di più perché alzando gli iso perdo gamma dinamica io invece ne voglio di più di gamma dinamica ne voglio più possibile quindi introdurrei anche rumore ma non è neanche tanto quello il problema perché con le macchine che sto usando adesso di rumore ce n'è veramente poco io posso scattare a iso 1600 in tutta tranquillità che il rumore non si vede neanche quello però che vedo è che ho una perdita di gamma e questo non mi piace io addirittura lavoro in bracketing quindi faccio cinque scatti con esposizioni diverse per andare poi a miscelarle in post vi lascio un video anche su questo se volete vedere il procedimento completo diciamo che faccio più foto della stessa identica posa per avere più controllo sulle luci e sulle ombre e quindi alzare gli iso che mi fa perdere gamma dinamica è proprio quello che non voglio fare per cui tengo gli iso più bassi possibile io potrei aprire il diaframma per far entrare più luce ma anche questa non è una cosa che voglio in questi casi perché sto fotografando una piazza un'ampia veduta voglio che sia tutto bene a fuoco e sto usando un grand'angolo quindi comunque diciamo che non ho grossi problemi ma chiudendo il diaframma mi vengono delle stelline sui punti luce che sono molto più accattivanti piuttosto che a diaframma aperto inoltre le lenti hanno lo sweet spot quindi la massima nitidezza intorno a f8 di solito quindi io non scatto quasi mai a tutta apertura è questione di stile c'è chi lo fa c'è chi ne ha bisogno personalmente per quello che faccio io non scatto quasi mai a tutta apertura vado sempre a chiudere quindi l'unico parametro che è rimasto libero sono proprio i tempi e quindi mi rimane da lavorare sui tempi e vado a impostare 20 secondi di posa ma è evidente che per quanto lo stabilizzatore possa fare faville io non posso stare 20 secondi fermo con la macchina in mano e quindi treppiede obbligatorio a questo punto abbiamo parlato degli iso abbiamo messo iso 100 abbiamo parlato del diaframma abbiamo messo un f8 barra f13 abbiamo parlato dei tempi i tempi in realtà li regoli in base alla scena io ho detto 20 secondi ma non è che c'è un giusto uno sbagliato io magari ero in piazza del duomo e avevo 20 secondi per la piazza e magari avevo 5 secondi per la galleria perché la galleria è più illuminata adesso con le mirrorless è molto più facile fare l'esposizione perché la vediamo la vediamo già subito sappiamo come verrà fuori la foto una volta si guardava semplicemente l'esposimetro e ce la si cavava benissimo con l'esposimetro io le ho sempre fatte con l'esposimetro con al massimo uno scatto di prova to due se era una scena che non avevo mai visto ma di solito uno scatto di prova e poi ce la si cavo anche perché io torno in piazza del duomo tutti gli anni a fare la foto di natale e l'esposizione è sempre quella non è che cambia quindi una volta che hai visto come si faceva in piazza del duomo e se poi vai a parigi a fare gli chancellise di sera probabilmente l'esposizione sarà simile quindi una volta che abbiamo capito che parametri impostare sulla nostra macchina con la nostra ottica e attenzione perché vi riporto i parametri che ho usato io ma magari voi usate una strumentazione completamente diversa i parametri dovranno essere un po' limati non saranno esattamente gli stessi però è per farsi un'idea di base di come andare a procedere un'altra cosa molto importante è non toccare direttamente la macchina nel momento dello scatto quindi se io andassi a premere il bottone per far partire lo scatto potrebbe essere un problema perché per quanto il mio treppiede possa essere bello la sto toccando sto andando proprio a sollecitare una componente anche meccanica perché lo shutter comunque è una componente ancora meccanica il bottone proprio intendo il bottone dello shutter è meccanico è un bottone che viene premuto quindi non è touch o cose del genere ci sono diverse soluzioni per questo problema posso usare un comando remoto io in particolare stavo usando l'rc6 mi sembra di ricordare oppure posso impostare un timer sulla mia fotocamera vi lascio in cardo un video che ho pubblicato di recente in cui faccio vedere i modi di drive quindi come impostare un autoscatto come impostare un ritardo sullo scatto questa è una cosa molto utile perché io ho imposto due secondi dieci secondi di ritardo quindi premo lo shutter poi stacco il dito e la macchina si stabilizza quel minimo di movimento che avevo introdotto dopo due secondi è passato dopo due secondi partono gli scatti nei cinque scatti di bracketing o quello che è la macchina ormai è ferma oppure posso utilizzare l'app in particolare uso l'app di canon ma a seconda del brand che andate a utilizzare probabilmente c'è un'applicazione equipollente con cui potete gestire lo scatto in remoto via bluetooth via wireless o quel che dir si voglia e quindi possiamo andare con il nostro telefono cellulare a dire alla macchina quando deve scattare e magari in certi casi anche a regolare l'esposizione vedendo l'esposizione direttamente sul monitor del cellulare quindi è anche comodo come fare per esporre una scena notturna allora nel momento in cui stiamo lavorando con una mirrorless o con una reflex in modalità live view perché ricordiamoci che anche le reflex hanno il live view la cosa più semplice che possiamo fare è guardare l'immagine e esporla lavorando solo sui tempi come detto diaframmi a iso li abbiamo già decisi lavoriamo solo sui tempi e impostiamo l'esposizione che ci sembra più corretta a monitor se abbiamo una macchina un po progredita come per esempio quelle che uso io vediamo anche l'istogramma sempre a monitor quindi io guardo molto l'istogramma perché ok che mi deve piacere che devo avere un'immagine che rispecchia quello che voglio effettivamente trasmettere magari fedele a quello che sto vedendo quindi la guardo e mi rendo conto se l'esposizione mi piace però guardo anche l'istogramma perché un conto è dire sì ok a spanne è quello che vedo però io mi rendo conto guardando l'istogramma se sto bruciando le alte luci o se sto bruciando le ombre e quindi anche se mi piacerebbe di più magari tirarla un pochettino più a destra se vedo che sto bruciando dei dettagli magari la ribilancio un pochino in maniera tale da avere più spazio di manovra in post produzione perché comunque il mio obiettivo è massimizzare la gamma e quindi non avere perdita di dettaglio né nelle alte luci né nelle ombre questo secondo me è un buon punto di partenza perché poi a contrastare a bomba si può fare anche dopo però recuperare il contrasto perduto invece è più difficile quindi avere una fotografia ben bilanciata secondo me è importante in fase di scatto e questo si fa con l'istogramma si fa col false color se abbiamo una macchina super mega professionale che ha anche il false color ci sono diversi strumenti dedicati io personalmente tendo a utilizzare l'istogramma perché se lo sai leggere ti dice tutto quello che ti serve ho anche pubblicato un video sull'istogramma quindi andatevi a recuperare anche quello se volete sapere di più come funziona questo strumento per il resto per quanto riguarda la composizione ovviamente lì sta al buon gusto e allo studio di ciascuno di noi perché studiando le regole della composizione si possono andare a realizzare delle fotografie più o meno accattivanti dipende anche dal soggetto ovviamente ci vuole anche un po' di fortuna e molto è dato dall'orario secondo me perché per esempio se noi andiamo a fare fotografia notturna ormai il sole è già tramontato ma se andiamo a fare fotografia notturna alle 7 di sera alle 8 di sera ok che è buio ma è pieno di gente quasi ovunque soprattutto in città quindi non è proprio l'ora ideale nel mio caso io mi sono recato a fare le fotografie che vi ho mostrato stasera intorno all'una e mezza barra le due di notte ed è un periodo limite eh attenzione perché io vado apposta a quell'ora perché a quell'ora c'è abbastanza poca gente da permettermi di portarmi a casa le foto ma è poco prima che spengano le luci perché dovete sapere che certe cose come gli alberi di Natale a una certa ora li spengono ed è circa alle due e mezzo alle tre di notte non mi ricordo più però mi ricordo proprio che mentre ero lì stavo finendo di fare le mie foto e me l'hanno spento davanti proprio quindi io tutte le volte vado lì e vedo che me lo spengono quindi molte cose vengono spente a una certa ora bisogna trovare quel giusto orario in cui si riescono a fare le cose perché non c'è tanta gente davanti a ingombrarci la scena però prima che spengano la trazione principale che siamo andati a fotografare magari perché se ci spengono le luci che illuminano il nostro soggetto principale e la foto ce la siamo giocata quindi sono tutte cose di cui tenere conto ovviamente a seconda della stagione prendiamo anche delle precauzioni perché adesso io le faccio in inverno e ve le faccio vedere in inverno copriamoci e prendiamo anche precauzioni per il rientro perché al rientro dobbiamo avere la fotocamera riposta in uno zaino e ben coperta perché se entriamo dal fuori col freddo entriamo subito in una zona in un appartamento con riscaldamento a palla si forma la condensa sulla macchina fotografica e non è il massimo quindi anche in quel caso bisogna prendere un po di precauzioni se invece lo facciamo in estate con un caldo bestia portiamoci una bottiglia di qualcosa da bere perché se no rischiamo di sciopare lì mentre stiamo facendo le foto cerchiamo di fare attenzione conosciamo il nostro ambiente conosciamo le regole che lo dominano e cerchiamo di non fare comunque stupidate e un minimo di attenzione anche per esempio non mettiamoci in mezzo alla strada col treppiede perché sono tutte cose che possono comportare dei rischi per noi e per la strumentazione e anche per gli altri che magari ci vengono addosso quindi bisogna sempre avere la situazione sotto controllo e con questo video fin troppo esaustivo spero di avervi dato un'infarinatura di quello che faccio solitamente io quando vado a fare fotografia notturna a questo punto vi aspetto nei commenti fatemi sapere che cosa fate voi quando fate la vostra fotografia notturna se seguite un iter simile al mio se vi ho illuminato con qualche passaggio che vi mancava vi ricordo anche che ho diversi video dedicati alla post produzione quindi se vi state domandando ma una volta che torno a casa cosa me ne faccio di tutte quelle immagini come le lavoro ho già diversi video dedicati a questo argomento a come si si fa lo sviluppo digitale su photoshop o su lightroom quindi andateveli a recuperare se ve li siete persi visto che c'è così tanta roba che vi interessa che dovete recuperare io vi consiglio anche di iscrivervi al canale perché così smettete di perdervi i contenuti ve li beccate in diretta quando escono e quindi siete aggiornati su tutto e non mi dovete più chiedere cose che magari ho già pubblicato bene ma a questo punto io mi sono dilungato anche troppo per cui vado a ringraziarvi come sempre di aver passato un po' del vostro tempo con me io vi do appuntamento come sempre al prossimo video ma vi rimando al video che compare adesso in sovraimpressione che è un altro video in cui parliamo sempre di fotografia notturna ma andiamo a fare un confronto tra la strumentazione fotografica vera diciamo e uno smartphone sempre impiegato per fotografia notturna date un occhio a questo video perché ne vedrete sicuramente delle belle signori è stato un piacere e io vi do appuntamento alla prossima ciao 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 ciao